Ciao a tutti, è Roberto Guadiri Channel, sempre qui in sede aziendale con il brand Electro Discount, uno dei brand più diffusi nei nostri brand di EDI Group, in compagnia di... Bruno. Ciao Bruno, da dove vieni? Da Cantù, provincia di Como. Cantù, provincia di Como, chilometri? Una settantina. Vai, che è arrivato da vicino, meno male, grande, grande, meno male. Praticamente quando mi sveglio, faccio così con la sveglia, praticamente gli dico ciao Bruno, no, meno male dai, scherzo a parte. Bruno, come che mi hai conosciuto? Su YouTube. YouTube come sempre, canale molto potente. Cosa hai visto su YouTube Bruno? Su YouTube un ragazzo che presentava delle luci a LED della tua officina. Mi sembra che questo ragazzo lo conosco, deve essere uno che è pelato. Ha messo le luci, in poche parole, poi ha postato questa... Bene, ovviamente sempre su Smart. No, era un'altra macchina, non mi ricordo, non era Smart, però... Ok, era un'altra macchina, giustamente la Smart ce l'abbiamo qua dietro, giustamente. Bene, grazie Bruno, dell'info. Allora, per quanto riguarda, bellissima Smart, vecchia serie, tra virgolette, la versione precedente a quella nuova del 2017-2018-2019. Come vedete, faro lenticolare. Aspetta, 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 aspetta. Sentito bene? Kit a pollo, kit a monoled, kit a pollo. A questo giro kit a pollo. Kit a pollo anche perché la scelta? Ricordiamo Smart, macchina piccola, faro piccolo, giustamente. Quindi abbiamo optato su un prodotto miniaturizzato, il kit a pollo è quello che ci dava una mano. E' stata anche modificata, ovviamente, sempre i tappi con il nostro tessuto per la dissipazione. Abbiamo fatto anche il kit Sirio base a cassette su abbaglianti che vi faccio vedere. Voilà. Eccolo qua. E qualcuno ha già visto, sotto, sempre kit Sirio su fendinebbia. Voilà. Praticamente è stato fatto l'anteriore. Mancava la posizione, adesso vi faccio vedere solo la posizione accesa. Eccola qua. LED Epistar con resistenza esterna del circuito, mi raccomando. Vi accendiamo un po' tutto, ovviamente spie non ce ne sono, non ci sono problemi su questa bellissima Smart. E il prodotto è concluso. Installazione pulita e fatta, ovviamente, sempre a regola d'arte. Anche con la regolazione, il cliente arrivava già da un prodotto di dubbio provenienza. Montante, sempre sull'inticolare lì, a testa proprio c'è l'andura. BLED, ancora. Ancora sto BLED, ancora. Guardatevi i miei video, però ogni tanto. BLED non va bene. Bene, a prescindere dal prodotto, come ho detto, dubbio provenienza, ma proprio il concetto meccanico di lavorare col BLED completamente sbagliato. Infatti, non c'era l'asse, non c'era la profondità, non c'era la potenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, lavoriamo con i prodotti specifici, importanti. Bene. Come sempre, Roberta Godi il Channel, Instagram e YouTube, ovviamente iscrivetevi al canale, Facebook, Elettro di Scam, un bel like, lo shop online shop.elettrosegnomenodiscam.com, il telefono fisso 02 98 26 02 07, l'email sempre del brand Elettro di Scam, info chioccio all'elettrosegnomenodiscam.com. Ragazzi, ciao ciao.